All'esito di articolate e complesse indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, la squadra mobile Regina, in collaborazione con i colleghi tedeschi, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa per delitti in materia di sostanza stupefacenti dalla GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria. Nei confronti di Catanzaro Bruno, nato a Catanzaro, e Strangio Antonio, nato a Locli, catturati rispettivamente a Taverna e nella cittadina tedesca di Mors, sita nelle vicinanze di Duisburg. Gli arresti di Strangio e Catanzaro si pongono nel contesto dell'imponente operazione di polizia interforze, denominata European Endrangheta Connection, eseguita nello scorso mese di dicembre in Italia e nel nord Europa, nei confronti di oltre 90 persone. Con il coordinamento di Eurojust e dell'agenzia Europol, che ha colpito, tra gli altri, numerosi esponenti di vertice della famiglia mafiosa del mandamento ionico della provincia di Reggio Calabria, disvelando gli interessi delle cosche nei traffici intercontinentali di droga, nel riciclaggio del denaro e nel reimpiego dei proventi illegiti nel settore delle ristorazioni. Tale operazione è stato il frutto di anni di intenso lavoro investigativo svolto nell'ambito della Joint Investigation Team, costituito il 18-10-2016 all'AIA. Dopo una fase di arresti nel dicembre scorso, le indagini sono proseguite per la parte curata dalla squadra mobile di Reggio Calabria. Il tutto mediante una serie di approfondimenti di elementi derivanti dalle attività tecniche di intercettazioni. Tali attività hanno portato alla luce alcune condotte di Catanzaro Bruno in ordine al fatto di aver accettato in vendita una quantità imprecisata di cocaina e di un cartone di sostanza stupefacente del tipo Ashish, detenuta in concorso con Gentile Giovanni, nato all'Ocri, e Pelle Domenico, nato all'Ocri, nel 1992, entrambi già arrestati nell'operazione European Dranketakonnection. A Catanzaro Bruno viene contestato invece il delitto di detenzione di un campione di sostanza stupefacente del tipo marijuana denominata amnesia e di cessione al prezzo di 3.000 euro al chilo di un'altra sostanza stupefacente del tipo Ashish, nota con il nome di Super Polline. Non solo, di delitti in materia di sostanza stupefacente dovrà rispondere anche Strangio Antonio, in particolare di aver detenuto e messo in vendita Pelle Domenico, che accettava l'accordo 4-5 pac di cocaina. Per entrambi gli indagati è stata ritenuta sussistente l'aggravante di aver agevolato la cosca d'Indrangheta dei Pellevottari di San Luca. Lo stesso Strangio è cugino di Pelle Domenico, classe 92, ed è nipote dei fratelli Pelle Antonio, classe 62, detto la mamma, elemento di vertice della cosca Pelle di San Luca, arrestato dalla squadra mobile nel 2016 in stato di latitanza, e di Pelle Domenico, classe 50, alias Miku Imata, attualmente detenuto in quanto coinvolto nell'inchiesta European Drangheta Connection. Dopo le formalità di rito, la G di Reggio Calabria avanzerà a richiesta di consegna in Italia.